il campo nome di un vetto è riuscito come un vetto è appunto a calma cioè le donne tre anziani che parlano nel libro lo dicono, mancano solo le guardie e il figlio spinato intorno ma è uguale, siamo un po' stretti qua, non usciamo, non andiamo in altra parte è un obiettivo creato dai pregiudizi perché teoricamente è una cosa normale avere delle limitazioni per un livello sociale comune cioè ognuno di noi ha delle limitazioni nel suo agire, nella sua libertà personale per avere un bene comune a cui aspirare cioè avere delle limitazioni è come, cioè io tra virgolette è un'estremizzazione, cioè io non posso campeggiare in piazza del popolo però la polizia mi manda via anche a me, si è pianto ma a te in piazza del popolo, è per avere delle regole per un vivere comune e dopo, secondo me sono i pregiudizi che dopo hanno fatto sì che questo campo nomadi sia stato vissuto come un gughetto però in partenza una limitazione per dare un senso a magari un milione di persone come può essere come sta raggiungendo Bologna ci serve io trovo che sia fondamentale discutere delle diversità culturali con delle persone che la vivono sulla propria pelle comunque in un'esperienza di vita ad esempio come Andrea giusto in questo momento ci ha voluto portare una testimonianza di quello che lui vive come persona nel suo campo nomadi a Mantua e anche con le sue ragazze Scusa, a Campoloso ci sono dei ragazzi che sono sposati da quelli della città che abitano dentro del Campoloso non c'è nessun problema culturamente parlato esistono comunque gli stessi pregiudizi, esistono in maniera uguale verso di noi da parte dei sinti cioè siamo noi quegli brutti, sporchi che facciamo cose malvasi e cattive siamo noi che partiamo via i bambini e qui un po' di ragione c'erano perché non si è mai verificato il caso che un romo sintomo abbia rubato un bambino se voi andate in questura e chiedete cioè non è mai stato stabilito come si dice, non è mai stato preparato, consumato che si sia verificato una cosa del genere anche da Gaggios cioè se andate in un campo nomadi c'è veramente tanti di bambini non c'è proprio bisogno di andarlo a prendere e comunque per loro siamo noi che andiamo a prendere i bambini a loro e non è tutto sbagliato perché gli assistenti sociali sono quelli che vanno se giudicano che una famiglia non è in grado di tenere un bambino sempre con il nostro modo di vedere la cosa il bambino gli viene tolto, viene portato via quindi siamo noi che portiamo via i loro bambini siamo noi che li schediamo anche le prendiamo le impronte digitali se non prendiamo la impronte digitale prendiamo la foto del neonato che è anche delle cose ultime uscite un bambino cambia fisionomia nel giro di due settimane però sembrava così importante prendere la foto del neonato come se rimanesse valida per chissà quanto tempo comunque siamo le stesse paure, gli stessi pregiudizi che abbiamo noi nei loro confronti, loro li hanno da soli noi questo incontro comunque mi è piaciuto molto perché sono realtà comunque quelle dei sindi e di Ron che non si conoscono non vengono insegnate, spiegate quindi in quel genere inserito questo progetto è molto utile sia per capire meglio e anche per migliorare in un certo senso ed eliminare i pregiudizi che si hanno verso questi popoli si, si sente, se una mamma in casi straziante che butta il bambino nel passoletto delle spazzature nella lavatrice tutte le nostre mamme fanno così o a scuola c'è qualche episodio poco bello o violenza o cose così i bambini stanno a casa tutti il giorno dopo i bambini del campo oppure insomma non si fidano per esempio mandare i bambini in gita non si fidano dei gaggi come chiamano noi che dispoggettivo si quando vogliono come nomadi diciamo come equivalenza ma cosa significa gaggi? uno non sito attraverso magari una discussione si possono trovare dei punti in comune ma allo stesso tempo chiarire dei dubbi o rimanere sulle proprie idee ma sempre arricchiti perché è questo alla fine che ci porta a una discussione almeno a me questo è quello che ha portato parlare e fare delle domande a questi due rappresentanti di una comunità di cui io sapevo ma non conoscevo a fondo non avevo mai avuto possibilità di scambiare due parole proprio con un loro rappresentante eliminare le differenze che ci dividono per ora si sentono anche altri giornali sì ci sono dei ladri bambini rubano non lavorano stanno ad occuparci il territorio mentre sono cittadini italiani come noi e quindi bisognerebbe interagire con loro approfondendo i rapporti cioè all'interno di noi chi sbaglia paga anche per cioè paga lui cioè uno che sbaglia cioè chi ruba viene allontanato anche da lui come succede che per uno prendono tutti noi cerchiamo anche noi di evitare quelle persone anche all'interno del campo se uno sbaglia cioè qualche modo si qualche modo viene un po' ripreso da tutti perché nessuno li parla che noi lo diciamo guarda che per te facciamo male anche noi cioè allora anche per noi c'è questa cosa qua adesso proprio che è l'interno del campo adesso stanno tutti lavorando però quanto abito in un campo non mi si è sempre visto male sicuramente i pregiudizi che ci sono a livello storico che sono nati da una situazione storica sia per l'Urssia per la comunità ebraica sia per quella Roma possono essere sicuramente un punto in comune tra le due e per il resto non ti saprei dire proprio così a caldo la mia cultura storica non è sufficiente diciamo bisogna informare non è sufficiente non è sufficiente Grazie a tutti.